Con Massimo Piacenti alla presentazione della Fiorentina Basket, Presidente dopo l'anno zero si riparte all'insegna di che cosa per la Fiorentina. È stata bella la sua frase in conferenza stampa, guardiamo verso l'alto non verso il basso quest'anno. Sì, nella passata stagione c'è stata la retrocessione per un canestro, ho detto. L'anno scorso è stato un anno importante, un'esperienza molto importante, sulla base di quella abbiamo costruito i progetti per quest'anno. Sì, la battuta che ho fatto è che mentre l'anno scorso qui su questo stesso palazzo nella sede del Comune di Firenze dicemmo che ci volevamo salvare, questo era l'obiettivo, quest'anno vorremmo guardare verso l'alto e magari centrare l'obiettivo dei play-off. Abbiamo costruito la squadra, lo staff, scelto il coach con questo obiettivo. Ambizioni e poi ci sono anche altri temi come per esempio ha parlato del codice evico, ha parlato dell'accordo con la Sancat, del settore giovanile, insomma c'è tanta carne al fuoco. Tantissima. Questa estate siamo stati silenti, come si dice, però abbiamo lavorato sodo, sia per costruire la squadra, abbiamo lavorato anche insieme all'amministrazione comunale, oggi mi ha fatto piacere che alla presentazione ci fosse oltre all'assessore anche il sindaco, anche l'assessore regionale Saccardi, quindi è un segno di attenzione anche delle istituzioni che è propedeutico poi, diciamo, all'interesse degli sportivi, insomma, che poi l'obiettivo è quello di riempire il San Marcellino. Abbiamo lavorato con l'amministrazione comunale per costruire un progetto per questa città. Noi ci siamo messi a disposizione, a Firenze quest'anno, come è noto, ci sarà anche un'altra squadra in Serie B e questo non farà che arricchire il panorama sportivo. Poi so che c'è anche, diciamo, ovviamente un po' di attesa per il derby, questa parte non la voglio ovviamente nascondere, cioè è il sale dello sport, però noi stiamo lavorando per costruire un settore giovanile molto ampio perché lo sport è anche e soprattutto un valore sociale, oltre che educativo e insieme all'amministrazione comunale, insieme a Michele Pierguidi, questi sono gli obiettivi su cui stiamo lavorando. Ci siamo dati un codice etico, che non sono tante belle parole, sono state pensate perché ogni progetto deve fondarsi su alcuni valori imprescindibili e questi valori debbono guidare ogni giorno la vita della società, di tutti i suoi appartenenti, a cominciare dal sottoscritto, diciamo, fino al volontario occasionale. Deve regolare i rapporti interni, deve regolare i rapporti con l'esterno, sia nell'attività sportiva sia nell'attività economica, perché serve grande trasparenza, bisogna che lo sport recuperi anche quella dimensione bella, diciamo, per i giovani e per le famiglie, che è un requisito essenziale.